che ci stai oggi Midori? oggi è Pasqua! io sto un giandino facciamo il ragazzo è un tesoro delle uova di Pasqua adesso io vi faccio vedere come troverò le uova prima dobbiamo andare a cercare gli indizi questa che cos'è? ho la coruncina metti la dai aspetta è bellissima qua c'è scritto qualcosa ciao sono io il coniglietto Pasquale sono arrivato fino a qui saltellando mentre tu eri distratto mi stavi guardando immagino tu non vedi allora di scoprire che cosa ti ho lasciato e che sia un grande colosone di cioccolato ma mi raccomando non esagerare col pancino ti farà trevolare carote verdure e frutta fresca sono le mie preferite provale anche tu sono molto buone e squisite per trovare i miei doni in una caccia al tesoro troverai di cimentarti e soprattutto ricorda che sono qui per augurarti una buona Pasqua oh grazie ci dobbiamo aprire guarda un po' è vero prendo questo mi trappaccio ci ha detto ci ha detto che ne sai? indizie indizietti hai visto una rosa? eccoli tutti gli indizi ok che c'è scritto qui? andiamo quale vuoi aprire prima? questo giallo? questo fucsia questo fucsia allora vediamo la macchina per tagliare l'erba ci va a riposare ma se apri la porta questa volta una sorpresa puoi trovare lì dentro la casetta qui c'è la macchina apri dai non so come si apre non so come si apre eccolo l'ho già trovato che cos'è? non ci vedi vedere molto pesante però eh dai la metti sul tavolo poi li apriamo tutti insieme io già vedo qualcosa lo fa dentro il rumore vediamo questo è un po' aspretto tu lo sai chissà che cosa troverai un po' aspretto è aspro se te lo mangi è aspro che è aspro? il limone e quindi dove devi andare a vedere? lì andiamo a vedere? il carotto il coneghetto insomma dove ci sarà? il cattotipo il moglie nooo aiuto il loro senti ci sarà? tutto quello deve contro te e quindi? ti è piaciuta questa caccia alle uova? si adesso li apri i pacchetti prima poi le uova dai non 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 oh yes, oh yes, questi che li regalano contro te i biscotti che faccio eh? certo, comunque puoi aprire l'uovo così lo scopo, lo vedo tutto in cioccolato eccolo, eccolo l'uovo ecco, scusate, ma eccolo no vabbè, ma che è sto cosa? sai che cos'è? l'ho attaccata la porta, la maniglia della porta che c'è scritto non entrate trote al lavoro c'è scritto vedi quello si appoggia la maniglia e c'è scritto trote al lavoro è vero, infatti se non è trote me l'hanno regalato a me eh certo, vediamo l'uovo come, saggia un pezzettino, saggia un pezzettino un attimino perché dovete sapere che lui e Sofì hanno un tintrote visto che loro mi conoscono io faccio panse di tintrote buonissimo e quindi mi hanno regalato questo aiuti, sta a squagliare ma che va a collo ecco, va a collo delle lol, ammi Dori dai, scena con l'album, questo qua è delle lol da colorare veramente un po' di questo un po' a vedere i colori quello qui è all'interno l'uovo era già aperto vero? sì assaggio pure questo questa è la riuquizia ora è più buona quella del mio contro te ok, ora apriamo anche la sorpresa degli lol vediamo un po' vediamo un po' i capelli lisci io mi sono mangiato più cioccolato ma come mamma? bella, io ho fatto pure il sole col cielo il frato bravissima adesso però passiamo al lovetto Kinder miam miam ha scogliato anche quello? tutto il sole? mettiamoci all'ombra un pochino direi di sì i pigiamini ninja i pigiamini qua che cosa abbiamo fatto giù? adesso dobbiamo giocare mettilo giù senza farlo cadere dobbiamo cercare di togliere gli anelli senza farlo cadere vai intanto tanto tocca di capire ah ha perso eccolo vediamo un po' lo vediamo anche io qua c'è lui e Sofì da colorare qua c'è scritto che fai la sera prima di andare a dormire lavarsi i denti lavarsi i denti mettersi il pigiamino salva di dare un bacio a papino falla pi pi va bene salutiamo tutti dai ti è piaciuta questa pasqua? sì ciao buona pasqua a tutti buona pasqua a tutti buona pasqua a tutti